L'indiscrezione arriva dal settimanale di Più TV, Eros Ramazzotti e Dalila Gelsomino non si frequentano da più di un mese, la loro storia è arrivata al capolinea. Una fine inaspettata che arriva dopo due anni esatti dall'inizio della loro storia d'amore. Una storia che aveva fatto sognare. Ma perché è finita anche tra di loro? Eros e Dalila non sono riusciti a superare una crisi che li ha travolti già dalla scorsa primavera e dopo aver provato a portare avanti, tra alti e bassi, la loro relazione, hanno deciso di comune accordo di dirsi addio, confidano gli amici ancora al settimanale televisivo diretto da Osvaldo Orlandini. Ma qualche indizio, per i più attenti, c'era già stato. Lei non ha più seguito lui agli eventi mondani. Entrambi, poi, non si seguono più su Instagram. Insomma che qualcosa tra di loro non funzionasse era già nell'aria. E pensare che con Dalila si parlava di possibili nozze. Le terze per il cantante di terra promessa dopo due matrimoni falliti come ricorda di più TV. Il primo con la showgirl Michelle Unziker, la mamma della sua primogenita Aurora, con cui è stato sposato undici anni, no al 2009, e il secondo con la modella Marica Pellegrinelli, con cui è stato sposato cinque anni e da cui ha avuto Raffaella Maria e Gabriel Tullio, che oggi hanno tredici e nove anni. E proprio ai figli e al lavoro, Eros ha deciso di dedicarsi per non pensare alla fine dell'amore con Dalila. Una storia nata sulla spiaggia di Cancun. Un vero colpo di fulmine. Ma ora Eros è concentratissimo sui suoi figli, che vede appena può, ma anche sul suo lavoro, ora sta scrivendo nuove canzoni a due anni dall'ultimo album. Insomma, sta cercando in tutti i modi di non pensare a questa delusione, del resto in questo amore ci credeva tantissimo, dicono ancora le persone che gli stanno vicino in questo momento delicato della sua vita. Una vita da single.